In questi giorni il caro benzina è uno degli argomenti più trattati sia a livello giornalistico che sotto gli ombrelloni. Chi si è esposta in auto infatti deve affrontare dei costi imprevisti dovuti proprio all'aumento dei prezzi nei distributori, tanto che alcuni automobilisti si sono rivolti direttamente alla Guardia di Finanza che già di suo aveva intensificato i controlli a tutela dei cittadini in materia di trasparenza dei prezzi. In particolare nel periodo dall'1 al 15 agosto 2023 sono stati eseguiti da parte delle Fiamme gialle 1.230 interventi, di cui 85 distributori operanti sulle autostrade e 1.145 sulla restante rete autostradale, 789 violazioni, di cui 363 per mancata esposizione dei prezzi o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati e 426 per inosservanza degli obblighi di comunicazione e all'osserva prezzi carburanti, istituito presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Dai dati forniti del Mimit intanto risulta ancora in salita il prezzo medio per la benzina, per il surf sulla rete autostradale, che si aggira sui 2,19 euro al litro. Il gasolio self, sempre in autostrada, è arrivato a 1,928 euro, mentre il GPL servito è stabile a 0,842 euro, come il metano a 1,528 euro. Localmente il prezzo medio più alto in modalità self lo ha ancora la provincia di Trento, con 1,97 euro al litro, seguita da Puglia 1,969, e quindi la Calabria. La meno cara è nelle Marche, con 1,924 euro al litro. Classifica analoga per il gasolio, il più caro è nel provincia di Bolsano, subito dopo in Calabria e in Liguria, dove si paga 1,868 euro al litro, mentre nelle Marche si registra il prezzo più basso. Per il GPL la regione dove si paga di più è la Sardegna, seguita dalla Sicilia, quella dove si paga meno è la Lombardia, mentre la Calabria sta in mezzo alla classifica. Per quanto riguarda il metano, infine, il più caro è quello siciliano, seguito da quello toscano e da quello calabrese. Il meno caro è quello dell'Emilia-Normagna.